Nanyangat, un gatto che è stato un tormentone del 2013-2014 quest'oggi con Arduino lo andremo a suonare infatti sarà il terzo episodio mini video riguardante a cosa far suonare ad Arduino e quest'oggi vi lascerò oltre nel link in descrizione anche la canzone proprio di Nanyangat suonata da Arduino quindi partiamo subito con la sigla così da vedere subito dopo l'occorrente l'occorrente di oggi sarà molto semplice, sono praticamente due cose il primo sono dei cavi di collegamento, ci serviranno due cavi e come seconda cosa ci servirà un buzzer, un buzzer multifrequenza cioè quello che può suonare più melodie messe insieme ora andiamo invece allo schema quindi cosa dobbiamo fare? allora innanzitutto per far suonare il nostro Arduino ci servirà l'uscita digitale GND e quindi ce la tiriamo su breadboard e nello stesso tempo dobbiamo andare al numero 8 del nostro Arduino ed estrapolare anche lì il cavetto positivo del nostro buzzer quindi una volta che siamo su breadboard dobbiamo collegare il nostro buzzer multifrequenza in questo modo quindi è molto semplice il collegamento come vedete di per sé è molto veloce e quindi non serve nient'altro che collegare due fili ora andiamo a vedere invece il progetto del programma beh, di per sé il programma di Nanyanget è un vero casino infatti come vedete ci sono tantissime note e per far funzionare tutto ciò ci serve anche la libreria Peaches praticamente le note del nostro pianoforte e comunque come vedete ci sono le varie note del nostro programma e ci spiega anche i vari spazi di pausa però quello che ci interessa a noi è questa nota nota che non si capirà niente su Arduino vabbè, però adesso passiamo alla scheda proprio dove andremo a configurare Arduino bene, per far funzionare questo programma cosa serve? allora, serve un buzzer multifrequenza come avevo detto in anticipo e i buzzer multifrequenza di solito hanno scritto sul loro proprio dietro hanno scritto la polarità quindi state molto attenti a come collegate perché o si può bruciare oppure non funziona più il buzzer comunque, allora, essendo che il meno è il GND andiamo a collegarlo all'entrata digitale del GND nello stesso tempo il blu, che è l'entrata positiva dovremo collegarlo al numero 8 del nostro Arduino a questo punto dovete solamente scaricare il programma al suo interno quindi attendere che il vostro computer compili la canzone e dopo che sarete pronti ovviamente sempre se avete inserito a libreria Pitches nelle vostre librerie partenza Pitches nelle vostre librerie Ecco, poi parte sto cavolo di fischio che non riesco a capire nel programma cosa è sbagliato però, vabbè, si blocca la canzone e finisce quindi non va in loop all'infinito come la canzone Star Wars o Super Mario in questo caso si blocca prima Va bene ragazzi, da questa puntata è tutto ci vediamo a un prossimo episodio nonché ultimo riguardante come far suonare cosa far suonare ad Arduino e sarà una canzone anche questa qui, molto famosa Tormentone degli anni 80 quindi ci vediamo alla prossima puntata